Aiuto! Nuova settimana, nuova reaction. Ma prima di iniziare ho due notizie per voi. La prima è che come al solito qui sotto nell'info box trovate il link per poter usufruire dell'offerta di Pampling. Quindi utilizzando il mio codice sconto CIPOLLOTTO potrete avere il 20% di sconto su magliette, felpe, poster, proprio come questo, a tema film e serie tv. La seconda è la possibilità di partecipare insieme a me alla proiezione di BUILO. Un film di Emanuela Rossi che tra l'altro è stato premiato all'ultimo festival di Roma. Sarà una proiezione online, perché ovviamente i cinema sono chiusi, ma funzionerà più o meno come il cinema. Infatti potrete acquistare il biglietto alla modica cifra di 4,90€ e poter accedere quindi alla proiezione online del film, quindi vederlo comodamente a casa vostra. Il film racconta di Stella, una ragazza di 17 anni, che sta vivendo una situazione molto simile a quella che stiamo vivendo noi ora, perché vive appunto in una sorta di quarantena. E solo attraverso i racconti del padre scopre di quello che succede fuori, ovvero una specie di apocalisse. E tutto sembra molto monotono fino a quando Stella non decide di uscire fuori. Quindi io sono curiosissima di vedere il film e spero anche voi. La proiezione ci sarà il 7 di maggio, ma comunque qui sotto nell'info box trovate tutte le informazioni possibili e immaginabili. Ma adesso veniamo al dunque. Che cosa avrà in servo per noi questo diciottesimo episodio? Chi lo sa? Avevamo lasciato i nostri protagonisti in situazioni veramente improbabili. Con tanto di bacio tra Betty e Arci che, oh mio Dio. Quindi io mi preparo psicologicamente e iniziamo. Sigla. Linciano. Regà, ma cos'è? Il cinefilo nell'era dell'internet. Madonna. Ancora questa battaglia del rumo, ma basta. Per favore. Cos'è? Le mazzette, le mazzette, regà. I video del solletico. No, vabbè ragazzi. I video del solletico. Cioè questi fanno soldi facendo video dove si fanno il solletico. Va bene. Non mi metto a giudicare i feticismi delle persone. Assolutamente. Oh Arci, che suona la chitarra di nuovo come i vecchi tempi. Chiotto. Nooo, montaggino, montaggino. I montaggini di quando erano piccoli. La famiglia Maloi? Questi cosa fanno? Vendono rumo pure questi? No raga, un'altra battaglia del rumo. Io non ce la posso fare. Ma quindi sono tipo tizi che lavorano con Hiram, che stanno cercando di... Oppure no, non lo so. Però potrebbe essere, perché Hiram c'entra sempre con ste cagate. Secondo me a sto punto non è vero. Perché sono insieme qui dentro? Sappiamo bene che cosa succede qui sotto. Lo sappiamo tutti. Eh, quello che mi sto chiedendo anch'io, perché siete qua? Ho paura. No, non è bello. Non è bello, Arci, no. Sì, sì. Adesso amiamo già che dobbiamo Veronica. Dovemmo amarli prima già che de' Veronica. Eh? Che ne pensate? Eh, dai, eh. Perché ci devono essere sempre momentini tristi con... Con Fred. No, è tornata questa. Di nuovo Ethel. No, raga, no. Le cose si mettono male. Ethel dice non aver fatto nessuna cassetta, ma secondo me mente e sa qualcosa. No, dai. Allora, questi flashback mi stanno facendo male al cuore, sinceramente. No, vabbè, raga. Mi sento male. Deve essere opera di un cinefilo. Io l'avevo detto che i cinefili sono delle brutte persone. Ecco, Reggie che inizia a fare cagate. Ok, Reggie si vuole pagare il college aprendo un suo sito di video di solletico. Va bene. Attenzione, si scopre che Ethel ha qualcosa a che fare con le cassette. Io lo sapevo, lo sapevo che c'entrava lei. Anche se in realtà la stanno facendo troppo facile, quindi sicuro è una pista sbagliata. È incazzata nera. È incazzata nera col babbo. Adesso ammazza. Arci canterino ancora. E va bene. Scrive le canzoni d'amore per Betty a questo punto. Attenzione, Arci vuole aiutarla con l'annuario. No, papà. Aiuto. Sto cercando di non pensarti, ma non ce la faccio. Cosa intende per finire qua? La canzone. La canzone. No, gli dedica una canzone. Le dedica una canzone. Oh mio Dio. Ah, ecco qua. Vuole coinvolgere la squadra di football. Ma qua... Scusate. Qua vuole dici se le vixen fanno il solletico ai bulldog in maniera esclusiva. Ok? Ma che è? Ma questa qua... È gringissima. Lasciate che il solletico inizi. No, io non ce la posso fare. Iram Lodge che fa qualcosa e non manda qualcuno a farla per difendere sua figlia. Mai vista questa situazione. Ma questo fa una brutta fine, raga. No! No, raga, ma stai scherzando? Iram, però anche tu, cioè... Sei un boss. Manda qualcuno a fare il lavoro sporco. Oh no, Veronica ha trovato del sangue. Che ansia, no, raga. Però un po' mi dispiace per Iram. Cioè, lo sapete che io lo odio, però un po' mi dispiace. Attenzione, Cerif fa delle domande scottati. Oh, finalmente qualcuno che lo dice. Grazie. Grazie, Ceril, che finalmente dice la verità. Cioè, Betty è sempre stata innamorata dell'idea di stare con Archie, di questa storia d'amore perfetta, di loro che fin da piccoli erano super uniti. Però era solo un'idea. Grazie, Ceril, grazie. Avevamo bisogno di te. Ecco i problemi con Terry, lo sapevamo. Cioè, Kevin era ovvio che questo ti avrebbe fatto il culo se gli rompevi le scatole. Che palle questa parte, però. Povero Kevin. Mai una gioia, lui. Mai una gioia. Cioè, allora, quindi mi state dicendo che al video store di Riverdale c'è una sezione segreta che si chiama la Sweet Scarlet Sweet, cioè la Sweet Scarlatta, in cui ci sono video strani di gente... Ok. Regi, secondo me, ti stai mettendo nei guai senza riandertene conto, come è già successo. Però, questa è solo la mia opinione. Le situazioni si aggrava. Addirittura non ho trovato la cassetta della morte di Jason. Crazy. Regi è proprio boss. Se la crede da morì. Anche secondo me avete fatto un grossissimo errore. Però, vabbè, sai com'è? Cioè, magari è andata a scuola invece che fare sti magheggi da gangster. io non ce la faccio prenderlo sul serio, sono stato avvertito di solletico online. Dai! Attenzione, siamo al bunker e Archie deve cantare la sua canzoncina. Tutta questa storia mi sta corrodendo, corrodendo. nooo, che bellino però il montaggino con le parti della prima stagione. Piango. Eh, però state facendo una cazzà, ragazzi, capite? Insomma. Amen. Ma tanto non ci credo che è finita manco per niente. manco per niente. Ah, quindi va l'Accademia Navale Varci se ne va deciso, ok. Betty ha bruciato i diari. Ha fatto bene, secondo me. Alla fine è un capitolo chiuso. Thank you, next. Oddio, chi è? Nooo, il preside non ci sto credendo. Sì, sì, ha proprio voltato pagina a Hiram. Ehm, è cambiato molto. Oh mio Dio. What the fuck? Che dire? Allora, cerchiamo di capire un secondo cosa sta succedendo. Secondo me, dietro a tutta sta storia delle cassette a sto punto c'è il preside. Charles insieme a Chick e in qualche modo ci hanno ficcato in mezzo a Ethel come complice o robe così che questa poverina ogni volta si ritrova infilata in queste situazioni anche senza volerlo. Cioè, mi sembra l'unica cosa plausibile. Mi piace che siano un po' tornati indietro sulla questione Betty e Archie ma secondo me ci ricadremo. Ci ricadremo e sicuramente ci faremo una stagione con loro due che stanno insieme. me lo sento però vabbè accettiamolo accettiamolo. Fatevi sapere che cosa ne pensate voi e quali sono le vostre teorie sulle cassette perché nello scorso video mi avete detto che anche secondo voi c'entra qualcosa Charles però qui scopriamo che c'è di mezzo anche Honey e effettivamente poteva essere un papabile sospetto visto che sta sempre facendo magagne è sempre stato un po' stronzo quindi magari stanno lavorando insieme da chissà quanto e c'è di mezzo pure Cheek che non si sa bene che cosa faccia. Nulla quindi appunto ditemi che cosa ne pensate voi quali sono le vostre teorie e noi ci vediamo al prossimo video.